Ciao a tutti, eccomi tornato, adesso sono a Estavalie Lelac, sono venuto ad un festival che vi faccio vedere adesso, che si chiama Brua Luminis, qui praticamente sono nel parcheggio che hanno organizzato, ci sono delle navette che poi porteranno le persone direttamente al posto, questa qua è la coda per prendere la navetta a quanto pare, adesso mi ci metto pure io, e ho organizzato molto bene, qua praticamente si paga 5 franchi per il parcheggio, compresa la navetta, e si può pagare tramite Twint, praticamente il personale che c'è all'ingresso a un QR code da scannerizzare con l'applicazione si paga direttamente, adesso aspettiamo, qui sarà abbastanza scuro il video, però non ci posso fare niente. Allora, la navetta ci ha appena scaricati e abbiamo fatto circa 3 minuti, forse neanche, si potrebbe anche fare a piedi però penso che diventi comunque lunga, almeno c'è più di 20 minuti, adesso qua ci sono degli abeti che potrebbero essere degli alberi di Natale, adesso non so qui ma dove sto io ci sono dei posti dove si possono andare a tagliare direttamente gli alberi di Natale e poi ci si riporta via, ovviamente si pagano, qua ci sono piccolissimi ma non si vedono. adesso aspetto di arrivare un po' più avanti, allora questo qui è l'ingresso, il biglietto è costato 16 franchi, adesso qui si iniziano a vedere le luci nella foresta. lo000 la sua il babieso o è in forma come mamma Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 allora il drago l'abbiamo visto adesso continuiamo qua c'è una tenda vediamo un po cosa c'è dentro c'è un po' che c'è un po' che c'è dentro qua ci sono tutti dei fili illuminati allora qui adesso c'è ora la partenza delle navette ma pure se va di qua qua c'è la musica e adesso vado a vedere qua c'è la musica ovviamente poi dopo vado a fare la coda che non si vede ma è lunga per prendere la navetta qui fanno la raclette qua cos'è altre cose i bretzel ah oggetti adesso vediamo poi di trovare qualcosa a mangiare qui la facciano anche le caldarroste pizza vin brulee ma non mi piace qua c'è un bel fuoco per scaldarsi direi che dopo faccio una bella pausa magari con un bel panino non lo so la pizza no ma che roba è una zuppa di pesce frittura no ho già mangiato fritto a mezzogiorno stasera ci manca solo questa qua c'è una pizza magari vado a prendermi delle castagne pure col fuoco a legna roba seria allora alla fine ho preso una crepe con prosciutto e formaggio una buona bella calda così almeno aiuta con questo freddo che c'è qui giusto per fare capire il freddo che c'è qua qui c'è un'esposizione di macchine le macchine sono tutte congelate allora adesso da far la coda è bello spero che non ce ne sia per troppo tempo e spero che questo video non sia venuto troppo scuro che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao